Più reddito ma meno consumi. Anche in Piemonte la crescita dell'occupazione e il rallentamento dell'inflazione favoriscono un sia pur limitato recupero complessivo del reddito disponibile e del potere d'acquisto, ma con un trascurabile effetto, almeno per ora, sulla spesa. Secondo infatti l'ufficio studi di Confesorcenti, le famiglie stanno sacrificando circa 600 milioni di potenziali consumi, sia per ricostruire il risparmio intaccato nell'ultimo anno per far fronte al carovita, sia per le prospettive incerte. Si tratta della faccia della stessa medaglia. Si risparmia perché si è timore per il proprio futuro, quindi il maggior reddito disponibile degli occupati o il reddito aggiuntivo di coloro che in questi mesi hanno trovato un'occupazione solo in minima parte viene speso, tanto che la propensione al consumo si è ridotta di 2,3 punti. Eppure in calo l'inflazione picchia ancora duro e in ogni caso la sua minore crescita non significa che i prezzi ora siano più bassi. C'è da temere anzi che nel prossimo futuro la spesa delle famiglie possa essere ulteriormente frenata dall'ennesimo incremento dei tassi di interesse, annunciato dalla BCE. Già ora i mutui hanno raggiunto i livelli proibitivi. E se, come è prevedibile, gli alti tassi deprimeranno l'economia, scordiamoci anche quel po' di maggiore occupazione che si è registrata in questi mesi. Tutto ciò non potrà non avere ripercussioni sul piccolo commercio.